Salve a tutti ragazzi, sono sempre mezzo benvenuto in questo nuovo video su FIFA 15 Sono in compagnia però di una bestia del deserto, così non sapevo cosa dire Sono in compagnia di Federico Marconi, signori Ciao a tutti ragazzi, ringrazio Mezzo per avermi invitato innanzitutto sul suo canale Ma voglio dire subito che perderà questo match che andrà adesso a presentare Perché perderò? Perché se voi andate sul suo canale, vi iscrivete, mettete in piace tutti i suoi video Troverete sicuramente un video dove io sarò protagonista perché abbiamo fatto già l'andata di questo match Inter-Roma, vi lascio andare a vedere sul suo canale che cosa succede Non diciamo assolutamente niente perché sennò è brutto Quindi signori siamo qui oggi sul mio canale per il ritorno, io direi che si può andare avanti perché sennò qui ci mettiamo un anno Si parte signori, inizia qua il ritorno di Roma-Inter Mohametto, Mohametto Guarda, comunque Salah c'ha un santo buco di culo che guarda, è incredibile Guarda che merda, guarda che schifo Quelli che fanno tutto con Salah e Quadrado Eccolo Dzeko Dzeko Ma tanto per cambiare No, non dir niente, non dir niente No, no, io vi invito sempre a passare sul mio canale perché non ci voglio credere Che è oggi, non lo so Riccardi Rodrigo Palà, distrutto Non è fallo, come fanno ad essere fallo? Piove, ti c'è Sono i cardi Fondare malo, attenzione i cardi Il tiro di i cardi! Signori! Non i cardi, ma cos'è? Un killer, cazzo Un killer Primo tiro in porta Se posso un minuto più del zero inter E' super Dzeko Bella palla e mezzo Miranda però, chiude tutto Possiamo ripartire Con Dogbia Freggi Ai cardi C'è Jovetic che si fa vedere Ma Leandro Castan chiude tutto benissimo Dzeko Guarda Buona la valla per Salah Cambiala tu Mohamed Grande Mohamed Madonna Samira Andano Guarda lì Guarda lì Zio Scalzo Scalzo Su un letto di chiodi Fondare Rodrigo Vede i cardi Non male Un po' defilato Indietro per Tejas La mette indietro In mezzo Per Pazio c'è il palo Ah che sollievo ragazzi Li prendo anch'io Mamma mia Cosa prendi io? I pali In culo La mette in mezzo dei rossi Ah non era male Perisic Poi in angolani Jovetic si stuffa Ora Naigo Gianic Facile facile per andare Una bestia qua Mica l'ultime team Cazzo qua È vero Palascio Occhio che è solo Occhio che è solo La prende Grande Szczesny Porca troia Grande azione dell'Inter Signore Mamma mia Non è meritato essere chiamato per nome Vai Mohamed Parte Salah 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 I pali della Roma Ma guarda te ragazzi Mohamed Queste sono le persone che odio su foot Eh lo so Lo so Lo so Mamma mia Senza gioco Senza gioco ragazzi Dai In golana Non è un po' di accontrare Farin Per Iovetic 2-1 Che azione Che azione Niente da dire Tra ancora Qua l'anno cincuesimo Ah È una gran azione Però Qualche buco Un po' scoperto Un po' scoperto Si voleva fare molto meglio Quindi Hai al buco Occhio al buco Zeko Esci Non ti perdona Edin Dzeko 2-2 Cori gioco Signori In 30 secondi Due gol Che partito Era commentato Era commentato Mire Ricomincia il primo tempo Ricomincia il primo tempo Tre nuovi campi Per quanto mi riguarda Secondo tempo Menzo Non fare questi failing Che cazzo ho detto? Ricomincia il primo tempo Ricomincia il secondo tempo Mannaggia a me Ho cambiato Dentro un ex Per l'Inter Li Aic Ademi Aic Occhio al buco Qui a destra No Oddio Oh Samir Chi è morto? Spero che era un cross Doveva almeno Con dobbia Occhio Occhio Nel altro buco Eh signori Non sbaglio Ma Farale una Tu fai finta di ruffarti Almeno Ma Riccardo Non sbaglia una Nell'angoli Un'altra Un'altra grande Grande azione Non so parlare Signore oggi 3-2 per l'Inter Che partita Se fossi andato allo stadio Mi sarebbe già venuto Un infarto Sì A me pure Lo vede? La valla è verso i turbi? No Buono per Edin Occhio ranocchia Signore Santo ranocchia Santo ranocchia Un metro e novantacinque Di niente Di capelli Florenzi Oh Iovetis Brutta 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 Si riparte Brutta Guardare Mauro Guardare Maurito Guardare Maurito C'è mezzo Perché l'ho fatto? Sto godendo Troppo Perché l'ho fatto? Mamma mia cazzo Credo fosse Iaic Cazzo Non Brozovic Che gol Ne so cacato Espulso Castanet Guarda Anocchia Vai 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 Nainggolan Nainggolan Ah Racciongolan 3-3 E' una partita Che non finisce mai Mi sta bene Comunque ragazzi Difese imbarazzanti Difese veramente Sì imbarazzanti Per un attimo Ho perso l'attimo Ho detto no Non gliela posso più passare Invece Bravo Ninja Cambio Gioco ottimo Di Miralem Di Turbe Ma peccato Sì Eh ma lì Si era allungata nel primo tocco Era difficile gestirlo No Come si è fatto dagli avviadigne Ti prego Salva Mi scelte Iaic Signori Il piastato di Mancino 4-3 all'81 4-3 all'81 Signori Un'azione di nuovo spettacolare Per quanto riguarda Davvero molto bella Gran palla di Jojojovetic Iaic Dio che palla per Perisic Che la mantiene Buonissima Occhio No 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 Non lo fai Leonida Leonida Non chiude Non chiude Non chiude 4-3 per mezzo Signori Comunque Per quanto mi riguarda Ha meritato anche questo vantaggio Ecco che adesso lo dice Però Però Proprio per questo Visto che l'ha meritato E noi conosciamo FIFA Al centro No Calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Che merda Schifida Ah buono Gliel'ho occupata Attenzione Non gliel'ho occupata Stavo scherzando Fammi il cucchiaio Mi raccomando Sì No L'hai fatta apposta No Davo Andiamo Ma la sai qual è la cosa bella? Dimmi Che io L'analogico L'ho tenuto un attimo Perché te la volevo mettere Vicino al portiere E lui l'ha tirata sopra la traversa Cioè io mi sento preso per il culo Fondamentalmente da sto gioco Però vabbè Che vittoria signori Grandissima vittoria Bellissima partita Spero vi sia piaciuto ragazzi Se chiamo di arrivare a un bel numero di mi piace Mi raccomando Vi ricordo Di passare dal suo canale Per vedere l'andata Direi che qua è stata Questa parida è stata Non dico un dominio È stata una bellissima partita Eh sì Anch'io chiaramente Mi calo nella parte Vi invito a passare sul mio canale Per andare a vedere cosa è successo All'andata diciamo Io ringrazio come ho fatto all'inizio Menzo E niente Vi saluto qui Ciao a tutti Ciao ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Soltiamo molto alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.